Quarantotto, semplicemente chiacchierare a Bologna, il Settecento è tutto molto bello, 1, 3, 3, 4, 6, 7, 9, 10, parlando, parlando, a volte sì, a Bologna si è conosciuti delle volte con delle volte, ma a volte Bologna non ti fa più parlare nel corso del Settecento. Il Settecento una volta anche Piero non si volta e si legge la spalla e si volta la volta. Però il Settecento è una cosa che, sì, con il Settecento noi non sappiamo bene che cosa fare con il Settecento, ma a volte però il Settecento ci fa fare delle cose che non vogliamo mai fare, ma proprio a Bologna noi una volta abbiamo fatto delle cose con il Settecento che guarda, veramente delle cose da Settecento, ma perché il Settecento a volte con un Bologna non c'entra proprio un cazzo, ma a volte però piedi non si volta e a volte la svolta si svolta e a volte la tangenziale, ma però è l'autobus che è passato sopra la tangenziale e anche a volte sotto il sottopassaggio, però il sottopassaggio vicino al Libi è stato bloccato per il lavoro in corso, per i parolini della provincia, per l'assessore del calcio, mi faccio un cazzo, per un servizio di 37, 47, 97, 32, ma a volte però col Piero non si volta, a Bologna non si è voltato e quindi a volte quando c'è una roba crosta facendo dei quadri che ho portato, io entro dentro i miei quadri, nei quadri cento, cento e poi esco, entro e esco, entro e esco nei quadri e i quadri a volte entro e esco, a volte entro e esco dalla tangenziale, dalla tangenziale però con l'autobus non ho fatto mai niente un cazzo perché la tangenziale a volte si volta, a volte si volta, a volte non si di volta, la tangenziale con l'asfalto è tutto buccato, l'asfalto è sempre tutto buccato e Roscal una volta ha detto che l'asfalto era buccato, quella è la tangenziale, la tangenziale è quella di Bologna, la tangenziale di Bologna, di Sassuolo Marconi, una volta il mio padre una volta ha detto che il San Giuseppe era 37, 47, 97 e il 72, ovviamente 1, 2, 3, 4, io una volta di 71 ho fatto Roscal, ho fatto 3, 2, 2, 2, 2 e parapa, ho pagato mi, ho mandato, e si a volte, certo, di parpero, muta, perfetto, ho fatto centro, una volta io si, ciao, buongiorno una volta si, ciao